ragazzi buongiorno allora uno omg o edr è questa dr 4.0 1.5 aspirata gpl 117 cavalli o 115 o 116 esatto fanno un po come vogliono loro con la dr aumentano tolgono fanno dispano il problema grande abbiamo paolo da brescia grande che monterà il pedasprint anzi l'abbiamo già montato e si sparerà 2000 chilometri andare giù a palermo in sicilia quindi detto mettiamogli pedasprint così arriva arriva non è che arrivi prima sei più veloce a muoverti perché questa è relativamente lenta ragazzi e me lo dice anche lui col climatizzatore acceso chi ha questa macchina lo sa dai o chi vuole acquistare questa macchina sa che non è un fulmine in accelerazione no esatto la macchina è perfetta perché va bene familiare il problema che quando devi dare un piccolo sorpasso una salettina ciao chiedere aiuto ragazzi usciamo in test drive e siamo subito da voi ragazzi eccoci a bordo della dr 4.0 macchina caccia 2000 chilometri seggiolino seggiolino dietro che fa rumore ragazzi ovviamente il gpl facciamo così qua è pure stretto che fortuna eh paolo paolo io te l'ho messo in comfort adesso fai la prova da fermo in partenza qua alla rotonda e poi andiamo tutta a sinistra tu fermati qua che andiamo in precedenza così fai una partenza da fermo in comfort tutto a sinistra andiamo dentro quella all'autostrada senti come è subito più reattivo il pedale ragazzi siamo solo in comfort se partiamo no no è cambiato tutto sinistra devi mullare e siamo solo in comfort e siamo con climatizzatore acceso e in gpl abbiamo tutto quello che si si poi io Marco guarda quando mi dici di cambiare le marge sono qua e ciao ciao buonanotte si sente si sentito ancora al semaforo io ho rallentato ho visto l'arancione eh no c'è qualcosa che non è quella di prima non è quella di prima allora guardi te lo spengo vedi come torna indietro adesso originale si si così è sport si sente ma ti siamo in quarta destra in salita in salita di quarta di quarta si si è come se fosse ganza in calza più qualche cavallo di valse e a fine invece ha gli stessi cavalli no stiamo andando al gpl sì si si stiamo andando al gpl no no beh è una roba veramente bella anche perché sto facendo una rotolla in terza non l'avevi mai fatto di qua a destra non l'avevo mai fatto no guarda è viva ragazzi questo serve c'è niente di più e niente di meno Paolo è cambiata non ho ancora provato quella più cattiva esatto esatto adesso facciamo così arriviamo alla rotonda torniamo indietro e ti metto un race e abbiamo sedute eco e copiunt te le faccio neanche provare che a te serve serve lo sprint tu quando te ne vai giù in ferie a Palermo te la tieni in comfort sport già sei a cannone ma anche race come preferisci cioè non è che te lo devo dire io tu vedi le provi tutte e metti quella che ti piace di più dopo certo in autostrada fermati adesso fermati ancora non è come andare nel paese che acceleri i freni ti serve in autostrada una volta che vai ok ragazzi siamo fermi in sporta no 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 devo lasciare l'acceleratore tutto sinistra devo lasciare l'acceleratore adesso te lo spengo ecco è tornato originale la sua lentezza si si sente tutto giù si sente adesso adesso c'è il race te lo tengo così no aspetta lo sento la differenza ragazzi stavi dicendo prima dell'autostrada quando tu sei a 130 e devi fare un sorpasso no no adesso si devi fare un sorpasso ma devi accelerare ancora mezz'ora prima per scivolare il camion adesso a 110 gli arrivi lì tu acceleri non va non va è rilento adesso adesso Paolo la differenza la vedrai quando torni a casa perché farei l'autostrada si si che sei di Brescia si si te ne accorgi subito vedi guardi quinta ragazzi 64 all'ora andiamo a destra ok bravissimo siamo in race così mi piace fare partenza porco caro e ripartiamo siamo a GPL col clima acceso la macchina sta andando che non so descrivere Jerry davvero non so descrivere perché non avrei mai pensato sai lo dicevi prima cosa dicevi prima se non lo provi se non lo provi non lo sai cioè anche io ho detto boh era un po' era un po' indeciso eh certo sì era un po' indeciso però ho detto voglio andare voglio andare a provare voglio andare a vedere eh sì ragazzi siate curiosi venite a provarlo perché una volta che lo provate sulla vostra macchina adesso cioè ragazzi sono in terza sono in terza c'è la gente adesso si meraviglia di queste cose qua ma perché prima non poteva farle caspita cioè non sono più veramente le macchine di vent'anni fa trent'anni fa cioè la tecnologia c'è la tecnologia le ha non voglio dire una brutta parola mamma mia depotenziate diciamo così è strano ma che di solito dovrebbe migliorare che viaggiano anche vabbè sì non si può procurare e invece no e invece no e invece no ci vuole il pedal sprint ci vuole questo pedal sprint perché non puoi non puoi ma no no se vuoi una macchina un po' più ecco così sì è perfettissima grintosa è perfetta non ho più la paura di arriva la macchina non riesco a uscire ti suona no no sei tranquillo perfetto la macchina fa quello che tu gli dici sì accelera e fa è pronta è pronta tutto qua ragazzi ovviamente non si perde la garanzia Paolo come ti dicevo perché tanto lui è montato prima del pedale ma scusami prima della centralina motore quando vai a fare perditi italiani così lo spegni la macchina esatto non si vede neanche basta in diagnosi sono riuscito neanche a fumare una sigaretta che l'avevi già montato per dirvi il tempo sì ho detto mi fumo una niente fumo dopo perché ormai l'avevi già montato ti devi abituare al pedale sì 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 sei in race qua tu calcola che è un mese è un mese che ce l'hai due settimane che ce l'ho e quindi mi devo abituare mi devo abituare anche perché prima era molto più pesante adesso stare pesante rischio passare fuori la senti più leggera la macchina sì molto più leggera non sembra neanche non sembra neanche più lei no no non sembra più lei ragazzi strabiliante questa mi piace per la città questa è comoda questa sì ci vuole questa piccola spesa è definitiva a posto col pedal blocco l'antifurto abbiamo dentro tutto ragazzi allora mettiti pure davanti al negozio e siamo a posto entra pure davanti benissimo dopo devo impararmi un po' che essendo alta fu una macchina bassa ragazzi quindi salire su questi marciapiedi Paolo io ti ringrazio ti ringrazio io a te grandemi grazie ragazzi già ripeto sprint venite a provarlo come ha fatto Paolo sì e ve lo consiglio perché davvero fate qualche chilometro in più fateli chilometri in più ma spendete qualcosina ma il risultato c'è il risultato c'è è tantissimo ragazzi se lo dicono i clienti che hanno appena montato 10 minuti che c'era su e difatti adesso appena vado in autostrada posso essere rilassato a guidare senza aver paura guardatevi la faccia come è contento perfetto grande Paolo grazie mille ragazzi alla prossima ciao